ciak numero 16 sono più o meno 25 minuti che sto cercando di realizzare questo video intervento e oggi non mi escono le parole speriamo che sia la volta buona questa ciao da francesco nano di scolasuono.it ho piacere di rincontrarti sul mio sito e mi fa piacere che tu risponda ai miei appelli e alle mie email con questo breve video intervento vorrei oggi proporti un sondaggio mi piacerebbe avere la tua opinione la riflessione che mi ha portato ad aprire questo primo sondaggio ufficiale di scolasuono.it è stata la seguente io mi definisco un musicista e so che molti amici di scolasuono.it sono dei musicisti la cosa che spinge un musicista a fare quello che fa a studiare il proprio strumento ad impegnarsi nella propria band a cercare le date andare a battagliare con i gestori dei locali a registrare i propri demo e a mettere da parte i soldi per comprare le proprie attrezzature è una motivazione che viene da dentro c'è il piacere di essere un musicista il piacere di poter aspirare se vogliamo a vivere di musica il piacere di poter realizzare qualcosa che piaccia anche agli altri penso che questo sia un sentimento che accomuna tutti noi tuttavia noi siamo una piccola parte di di quel popolo italiano che in questo momento si trova a quanto dicono in grave difficoltà si parla di crisi economica di grosse rivoluzioni fuori dalla porta di casa nostra sembra che sia un periodo difficile e un periodo incerto che non si sa come andrà a finire per noi la mia domanda da musicista da operatore del settore da personaggio che si è inventato un sito dedicato ai musicisti per fare community per fare amicizia per trovarsi scambiarsi idee tra musicisti è la seguente è ancora possibile per un musicista italiano oggi come oggi nel 2011 aspirare a vivere della propria musica non dico diventare famosissimo oppure non lo so a fare una vita da nababbo diventando una pop star internazionale c'è qualcuno che è graziato da questo punto di vista e ce la può fare sto parlando proprio di invece di riuscire a costruirsi una paga c'è una degli introiti mensili che ci consentano di fare una vita dignitosa vogliamo dare una cifra parliamo di 2000 2500 euro al mese c'è qualcosa che va dal di là di una paga media vivere da musicisti significa per quello che ne ho capito io avere la possibilità di guadagnarsi il pane con la propria arte fare felici delle persone che ascoltano la musica che facciamo e soprattutto avere a disposizione una gran parte della giornata da dedicare a lavori in studio di registrazione a programmazione e prove per i live quindi fare poi ci stanno anche magari delle lezioni con degli allievi fare proprio intendo dire la vita da musicista senza che musicista diventi una una parte di una catena di montaggio perché con la necessità di sopravvivere diciamo un musicista che magari avrebbe la voglia di passare una giornata in studio di registrazione o nel proprio studio per realizzare il nuovo brano che gli è venuto in mente il nuovo arrangiamento magari non lo può fare perché giustamente deve alzarsi andare a lavorare magari lavora in una fabbrica usa usando le mani se le anche se le rovina insomma è una condizione mettiamola così non rosea per la maggior parte dei musicisti allora la domanda che mi sto facendo io in questo momento è abbiamo noi musicisti abbiamo ancora la prospettiva di poter vivere con la nostra arte con la nostra passione con la nostra musica anche grazie alle nuove tecnologie che ci vengono messe a disposizione da internet i vari siti vari social la possibilità di vendere la propria musica online nella possibilità di contattare il proprio pubblico online oppure dobbiamo rassegnarci perché ormai la situazione globale generale quantomeno italiana è così è così penalizzante che dobbiamo noi musicisti dobbiamo proprio abbandonare il sogno accantonare il sogno di diventare autonomi grazie alla nostra arte e bene ti invito proprio ad esprimere la tua opinione perché questa è qualcosa che mi riguarda e ci riguarda davvero in primo piano io stesso devo capire anche se è un po è un po diciamo che serve anche molto a me questo sondaggio non te lo nascondo nel senso che io sono contento di portare avanti un sito web dedicato ai musicisti e cercare di inserire sempre più contenuti utili ai musicisti ma se voi tu amico o amica musicista non hai la prospettiva di vivere della tua arte della tua musica tutto quello che facciamo sia su scuola suono ma anche su tutti gli altri siti sugli altri network diventa solamente una perdita di tempo un modo per rifugiarsi in un qualcosa che ci piace ma ci può portare veramente ad avere dei risultati pratici ecco è qua che voglio arrivare tutta la passione l'arte e tutto lo sforzo che mettiamo nell'imparare a suonare uno strumento a comporre musica o qualsiasi altra cosa attinente alla musica diventare un tecnico del suono ci può ancora riscattare da una situazione di quasi deriva dal punto di vista economico sarei molto interessato ad avere la tua opinione quindi ti prego di votare per votare semplicissimo basta che guardi qua sotto trovi il sondaggio clicchi su vote c'è scritto vote clicchi la dai la tua opinione sì o no e dopodiché tra qualche giorno faremo delle altre considerazioni per vedere se e come possiamo migliorare la nostra condizione economica di musicisti se è possibile o se non è possibile come come sopravvivere in queste in queste situazioni che a tante persone vivono con grande sofferenza con grande disagio perché quando uno è innamorato della musica dovere andare in fabbrica io lo capisco uno deve mangiare però tutti i giorni si domanda ma non ci sarebbe un modo per alternativo vediamo di strutturare assieme un piano di riscatto dei musicisti se questo è possibile oppure vediamo di prendere atto che non c'è più niente da fare tu come la vedi buona votazione ciao da francesco nano ci sentiamo presto con il prossimo video intervento ciao